Bianco o blu Gol Un attimo di serenità Ovvio che sono felicissimo per la vittoria Adesso aspettiamo la prossima partita Con l'obiettivo raggiunto di ridurre il distacco Adesso in testa c'è il Mozzanica Noi gli scontri diretti sono già alle spalle Però non si può più sbagliare Ovvio che non si può più sbagliare Sapevamo che questa era una partita da dentro fuori Quindi bisognava vincere per forza E quando ci sono queste partite Noi difficilmente sbagliamo Per fortuna anche oggi è stato così E niente, dalla prossima ci pensiamo domani Adesso un po' di festeggiamenti ci stanno Un brescia più forte anche del forfè All'ultimo minuto di Lisa Borghetti Vari cambi anche tattici di ruolo Nel corso della partita Una squadra che dimostra in questi frangenti la sua forza Sì, è ovvio che dispiace Quando una giocatrice lascia all'ultimo secondo Però purtroppo bisogna essere brave Ad adattarsi E noi lo stiamo facendo Grazie anche al mister Che comunque non ci insegna soltanto un modulo Ma cerca di farci capire Che comunque il calcio non è solo 4-4-2 Ma è un gioco di posizioni Che comunque sei in grado di trasmettere poi in campo Comunque quello che fai in allenamento Poi in campo ti viene più semplice Grazie Grazie, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti